Questa è la storia di una ragazza chiamata Clara e del suo vestito preferito. Clara ha 14 anni, ama dipingere e la sua icona è Frida Kahlo. Per Clara Frida rappresenta la libertà di essere se stessi e l'esempio che al di là delle circostanze possiamo lottare per i nostri sogni. Clara ha avuto un ictus prenatale, non può parlare, scrivere o leggere, ma può sognare. Clara sogna una mostra a New York così come Frida, una casa con piscina, degli amici che rispettino i suoi tempi e Clara sogna di avere una famiglia tutta sua. Clara ama indossare abiti e gonne, ma questo vestito per lei è speciale. Unendo la forza e il coraggio di Frida e la sua tenacia e voglia di vivere come se indossasse un vestito pieno di superpoteri. Autostima, accettazione, allegria, libertà e amore. Tutto in uno.